Buongiorno a tutti, rieccoci con il record degli animali. Se vi siete persi gli altri video, metto il link in descrizione, andate a guardarli. Il record del mondo di salto in lungo appartiene a... Ooooooh... Il leopardo delle nevi. Infatti, questo felino, nelle montagne in cui vive, riesce a saltare crepacci larghi fino a 15 metri. Incredibile! Il record del mondo di salto in alto appartiene a... Ooooooh... Il galagone! Infatti, questo animale riesce a saltare in alto fino a 2 metri, che può sembrare poco, ma in realtà è 10 volte la sua altezza. Se pensiamo che questo è un mammifero grande più o meno come un tuoco, questa misura è incredibile. Nemmeno il mio amico Alessandro, che è un campione di salto in alto, ci riesce. Bene, anche oggi abbiamo terminato. Per altri contenuti sui record degli animali, iscrivetevi a Shanksha.